a vigianello il festival uomini e cime una tre giorni per raccontare la maestosità del pollino federica corsini è sulla scia dei viaggiatori del grand tour che si aprirà tra pochi giorni a vigianello la seconda edizione del festival letterario uomini e cime come gli aristocratici e gli intellettuali che a partire dal quindicesimo secolo venivano nel sud italia per poi raccontare la bellezza artistica e naturalistica dei nostri luoghi anche quest'anno tre autori del panorama letterario italiano saranno protagonisti dal 25 al 27 luglio di una serie di appuntamenti letterai e non alla scoperta del pollino l'idea è molto suggestiva l'abbiamo voluta ripercorrere lo facciamo con gli scrittori italiani proprio per ospitarli qui e farli scoprire vigianello e il pollino in modo da poter proiettare sul panorama nazionale in pratica quello che il nostro borgo le nostre tradizioni le nostre usanze le nostre peculiarità è un modo questo per far raccontare raccontare i nostri luoghi che meritano attenzione il festival organizzato dall'amministrazione comunale insieme alla prologo di vigianello e alla regione basilicata è un'occasione di incontro tra scrittori e lettori con letture pubbliche e dialoghi ma anche escursioni e laboratori di scrittura creativa ad alta quota un evento che lascerà una traccia una testimonianza nei racconti degli scrittori ospiti il meridionalista pino aprile il giornalista lucano fabio amendolara e la scrittrice disney valentina camerini che dopo il soggiorno descriveranno le loro suggestioni in un reportaggio su vigianello e il pollino ma anche il pubblico sarà parte attiva sollecitato a scrivere racconti sul tema della montagna e a partecipare alle numerose iniziative collaterali nei tre giorni del festival si potrà partecipare a delle escursioni nel centro storico sul pollino e nei nostri fiumi ci sarà la degustazione di prodotti tipici e si potrà ascoltare buona musica con dei concerti e con delle serate di folklore di musica popolare